Gli studenti del liceo scientifico Fermi di Cosenza hanno dato il benvenuto al nuovo anno con festeggiamenti in grande stile, inaugurazione prima alla presenza delle maggiori autorità istituzionali del territorio e incontro poi degli studenti con il magistrato Gerardo Colombo. Si tratta di un'iniziativa rientrante nell'ambito di un progetto più ampio promosso dalla scuola e che punta al potenziamento delle attività didattiche inerenti all'insegnamento del diritto. Anche i licei devono potersi accostare al diritto e all'economia, non soltanto i tecnici a nostro avviso. Noi abbiamo fatto questa scelta quest'anno insieme ad altri potenziamenti che abbiamo, chiaramente che sono opzionali per i nostri studenti, ma diritto e economia proprio perché seguiamo i ragazzi anche dopo il diploma e abbiamo visto che una frangia di loro sceglie giurisprudenza o economia. Quindi perché non farlo fino al primo anno? Abbiamo coinvolto genitori, chiaramente genitori nello specifico commercialisti, avvocati, magistrati che hanno i loro figli in questa scuola. Li abbiamo coinvolti con molto entusiasmo e hanno accettato quindi molto ben volentieri di venire a fare delle lezioni che chiaramente si baseranno non soltanto sulla lezione face to face, frontale, ma su una didattica esperienziale, per cui organizzeremo, non so, visite all'agenzia dell'entrata, in tribunale, in banca per quanto riguarda, perché sarà coinvolta anche la CARIME, abbiamo avuto un incontro ieri per quanto riguarda l'educazione finanziaria, quindi cercheremo di accompagnarli. Se hanno questa passione poi si svilupperà nel corso degli anni, decideranno loro quello che vorranno fare, però è importante che loro capiscano. L'arrivo di Colombo nell'Istituto Scolastico è stato possibile grazie alla collaborazione con il Teatro France e l'Associazione di Cajosine. Abbiamo anche, diciamo, organizzato degli incontri con delle personalità importanti della cultura, della politica. Abbiamo avuto i nostri ospiti, per esempio, Don Giacomo Panizza, abbiamo avuto ospite Carmine Abbate, Gratteri, il giudice Gratteri. Questa volta, Gerardo Colombo, che ci ha dato la sua disponibilità, abbiamo ritenuto anche opportuno che Gerardo Colombo incontraste gli studenti del Fermi, che è una scuola molto, diciamo, attenta al mondo delle regole, al mondo dell'educazione civile e costituzionale.